Chi lo dice che per ammirare le bellezze del territorio sia indispensabile la luce del sole? La conferma che per passeggiare nella natura sia sufficiente anche il crepuscolo lunare arriva dall'associazione Fare Verde di Bitonto che ha guidato decine di bikers e trackers in un'affascinante escursione notturna attraverso il polmone verde bitontino, un'iniziativa inserita nell'ottavo campo di tutela ambientale e prevenzione incendi organizzato dall'associazione ambientalista Fare Verde nel parco dell'Altamurgia per il cartellone degli eventi estivi del comune di Bitonto con il patrocino del ministero dell'ambiente del parco nazionale dell'Altamurgia della provincia di Bari. Prima di partire però uno sguardo alle stelle con i volontari dell'associazione Argonauti che hanno spiegato dal vivo ai tanti bambini presenti le meraviglie del cielo stellato con le ture a tema e i giochi, poi il via alle escursioni con i trackers capeggiati dall'escursionista Leonardo Losito e i bikers sotto la guida dell'associazione Dynamic Bike. Al ritorno musica dal vivo e cena a base di prodotti tipici per un'iniziativa che ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati della natura. Fare Verde non è un'associazione di escursionisti, ha iniziato ad apprezzare l'escursionismo perché ritiene che il contatto con la natura, il voler camminare tra la natura è sicuramente un modo per fare ambientalismo, è un modo per far conoscere alla gente che solitamente vive in città questi territori che diversamente senza il nostro contributo non avrebbero mai percorso queste strade che sono in aperta campagna o addirittura attraversano boschi, quindi l'intento è quello, quello di portare la città in campagna e in questo particolare modo nel parco dell'Altamurgia e nel bosco di Bitonto.